Buongiorno mi chiamo Francesca Boi, frequento il quarto anno all'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano nella sede associata a Olmo di Cornaredo e ho pensato per voi oggi a una tartelletta cremosa con lemon grass, pinoli e morbido di grana padano. Si inizia preparando una pasta brisé che è composta da farina, burro, uova e sale. La stendo a 2 mm e poi vado a copparla per creare le tartellette. Adesso la lasciamo riposare in frigorifero. Mentre l'impasto riposa prepariamo la farcia, iniziamo facendo sciogliere il burro, aggiungiamo il tacchino, un po' di timo, il lemon grass tritato. Prepariamo la salsa royal che andrà all'interno delle tartellette con grana padano, panna e uova. Giriamo tutto con una frusta in modo da amalgamare. Prepariamo il morbido grana padano con panna, del latte, facciamo scaldare fino quasi al bollore e aggiungiamo poco per volta il grana padano. Adesso prendiamo le tartellette dal frigo e le farciamo col tacchino e la salsa royal. Aggiungiamo inoltre dei pinoli precedentemente tostati come guarnizione. Le mettiamo in forno per 10-12 minuti a 170 gradi. Dopo aver completato la cottura e averle fatte raffreddare procediamo con l'impiattamento delle tartellette. Le immergiamo nel morbido grana padano e le disponiamo sul piatto. Decoriamo il piatto con il morbido e finiamo decorando con dei petali di fiore. Abbiamo preparato le tartellette cremose con lemon grass, tacchino, pinoli e grana padano d'op. Buon appetito!